Buona Domenica 3 marzo. In questa Domenica di Quaresima incontriamo un'espressione forte di Gesù. Sferza anche con violenza il mercanteggiare nel Tempio, luogo formale della religiosità. Ma non si limita a questo Gesù. Costituisce come punto di riferimento non il Tempio di Pietra, ma il Tempio che ospita la vita, il corpo, il corpo delle creature. Fate a immagine e somiglianza del Creatore. Quel corpo, il corpo di Cristo, che verrà sferzato dalla mondanità, quel corpo che si reca a Gerusalemme, verrà ucciso dal potentato politico e religioso di quel tempo, quel corpo che oggi viene massacrato nel corpo dei poveri, dei reietti, degli esclusi, in nome delle ragioni del mercato. Sì, perché gran parte della opposizione nei confronti dei flussi migratori nasce da una considerazione meramente economica che allude alla legittimità della concentrazione delle risorse del pianeta che non sono proprietà di nessuno, sono semplicemente dono della creazione nelle mani di pochissimi, i quali immaginano di essere meritevoli in virtù della loro forza, della loro intelligenza. La meritocrazia, in base alla quale si genera l'ingiustizia sociale. Questi sono i grandi temi che oggi troviamo nel Vangelo e naturalmente Gesù parla della conversione verso il corpo della creazione che è violentato, massacrato, ferito in nome della centralità del mercato. È una condanna definitiva e assoluta nei confronti del mercato che contiene in sé l'illusione della meritocrazia, della supponenza suprematista del denaro, l'idolatria del denaro e del mercato che caratterizza la nostra condizione umana oggi, veicolata attraverso anche i media che fanno propaganda, che ottenebrano le coscienze. Dunque, ascoltiamo con particolare attenzione il Vangelo di oggi che ci ammonisce a cambiare rotta, a prendere atto che Gesù stesso giustamente non si fida di questa umanità che ha il cuore blindato dall'idolatria del denaro e del mercato. Gesù ci assicura che una vita nuova è di fronte a noi, che nasce attraverso il dono della vita eterna, della vita autentica, che germoglia nella risurrezione, nella Pasqua. Gesù si sta recando a Gerusalemme, ripeto, verrà ucciso, ma con grande coraggio e amore per l'umanità, sferza l'umanità stessa, allontana, simbolicamente e concretamente dall'idolatria del denaro e del mercato. Dal Vangelo secondo Giovanni si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti cambi avradute. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio. Con le pecore, i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiamonete, ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre, del Padre mio, un mercato, non fate del mondo, un mercato». Noi abbiamo ricevuto il dono della vita, siamo creature, abitiamo la casa del Padre, qui ed ora, noi in un tempo remoto al quale guardiamo con sostanziale indifferenza, anche quando siamo credenti, dobbiamo vivere intensamente la realtà concreta della casa del Padre nelle nostre vite, nelle nostre relazioni. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero «Quale segno ci mostri per tutte queste cose? Come puoi pretendere di avere una tale autorità? Come ti permetti ad agire con tale determinazione e di violenza?» «Chi sei tu?» «Questo i giudei chiedono». Rispose loro Gesù «Distruggete questo tempio e in tre giorni io lo farò risorgere». Ecco, il tempio si sposta dalla struttura muraria al corpo di Gesù. Gli dissero allora ai giudei «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. I giudei questo non lo capiscono. Ma neppure noi sembriamo non capire il significato autentico di quel corpo martoriato e straziato che attraverso il sacrificio della vita riconsegnerà all'umanità la vita autentica. Perché l'umanità aveva fatto e fa continuamente scempio del corpo dono di Dio? Quando poi fu risuscitato dei morti i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. I discepoli si ricorderanno e crederanno nel momento della risurrezione. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Credono per quei segni. Ma qui poi c'è un altro passaggio successivo a questa apparente fede che hanno nei confronti di ciò che vedono. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Non aveva bisogno, non si fidava. Li conosceva tutti, ci conosce profondamente il nostro costante tradimento in nome del mercato, dei nostri interessi, della banalità del male, del teniamo casa, famiglia, dobbiamo portare a casa la pagnotta. In base a questo siamo pronti a tradire quel messaggio di amore che Gesù testimonia ed esprime pienamente nel suo corpo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo, conosce ciò che c'è in noi e noi siamo chiamati al discernimento e all'attenzione nei confronti di una coscienza troppo spesso ammorbata dall'ideologia del mercato e del denaro, dalla rassegnazione nei confronti di una speranza autentica che germoglia nella condivisione e nel superamento dell'economia dello scarto. Ma questo ci porta nella gioia profonda dell'economia della condivisione, dove il denaro diventa un semplice strumento attraverso il quale ridistribuiamo le risorse del creato che non sono nostra proprietà. Così Papa Francesco commenta all'Angelus del 4 marzo 2018 il brano del Vangelo di oggi. Per interpretare il gesto di Gesù di purificare la casa di Dio, i suoi discepoli si servono di un testo biblico tratto dal Salmo 69, lo zelo per la tua casa mi divorerà. Questo Salmo è un'invocazione di aiuto in una situazione di estremo pericolo a causa dell'odio dei nemici. La situazione che Gesù vivrà nella sua passione, l'odio, che ottenebra il cuore e la coscienza umana. Lo zelo per il padre e per la sua casa lo porterà fino alla croce. Lo zelo per la tua casa mi divorerà. Questo richiama anche un altro brano, un passaggio del Vangelo. Chi trattiene la propria vita la perderà, chi è disposta a sacrificarla nel mio nome avrà la vita eterna, la pienezza della vita autentica. Il suo, quello di Gesù, è lo zelo dell'amore che porta al sacrificio di sé, non quello falso che presume di servire Dio mediante la violenza. No, non è un atto di violenza fine a sé stessa, quello sferzare il mercato. L'Evangelista annota, egli parlava del tempio del suo corpo. Con la Pasqua di Gesù inizia il nuovo culto, nel nuovo tempo, nel nuovo tempio, il culto dell'amore e il nuovo tempio è lui stesso, il corpo di Gesù. Nell'incontro con l'altro, con il corpo dell'altro, dell'altra, incontriamo la pienezza della dimensione dell'amore che ci chiede, una conversione radicale, accogliendo in noi la pienezza, la concretezza dell'infinita misericordia e amore di Dio per l'umanità, che non ha alcun merito, ma in qualche modo, se si fa aperta e accogliente al messaggio del Vangelo, può cogliere il germogliare di una speranza che libera l'umanità dalle proprie tendenze egocentriche e dispone una realtà che vive nella pienezza della condivisione del bene comune. Buona giornata a tutti e a tutti.